Mentre gli appassionati più incalliti come noi, d'altronde, aspettano un'alternativa alla 2080 Ti da parte di AMD, la Casa Rossa ha pensato bene nelle ultime ore di annunciare una soluzione Full HD, in particolare sto parlando dell'RX 5500 e della sorella dedicata al mobile, quindi al mercato, tendenzialmente dedicato ai notebook, quindi la 5500M. Dopo due brillanti schede uscite per quanto riguarda la line-up RDNA, quindi la 5700 e la 5700 XT, che abbiamo visto a luglio lanciate, abbiamo conosciuto anche qui sul canale, vi lascio il link nelle schede per andare a recuperare il video nel caso in cui non l'aveste visto, e qua sotto in descrizione i link alle recensioni approfondite, ecco una soluzione dedicata al Full HD. AMD è posizionata benissimo per quanto riguarda il Full HD, grazie alle Polaris, grazie all'RX, RX 570, RX 580, RX 590, viste negli anni scorsi appunto, e tuttora è probabilmente la soluzione migliore per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo su questa fascia. Questa 5500 si aggiunge, diciamo, va un po' a dare il cambio a quelle che sono le schede che abbiamo conosciuto fino ad adesso come Polaris, sotto l'architettura Polaris. Ve ne parlo molto velocemente e poi dovremo per forza di cose attendere i prossimi mesi, le prossime settimane, per avere una nuova 5500 sotto mano per testarla e darvi delle impressioni più precise, diciamo, anche per quanto riguarda prestazioni e, ci arriverò anche più in là con il video, il prezzo, perché sì, non so ancora dirvi che prezzo ha questa scheda. Quello che è importante capire, e ve l'ho già anticipato nella premessa, è che è una scheda appunto dedicata al Full HD, quindi 1920x1080 di risoluzione, e che non è più ovviamente in architettura Polaris, bensì ha la nuova architettura a 7 nanometri chiamata AirDNA, ovvero Radeon DNA. Quindi chip navi a 7 nanometri che conta 6,4 miliardi di transistor, 22 compute unit per un totale di 1408 stream processor. La versione 5500 classica raggiunge e supera i 5 teraflops di potenza grazie a frequenze che raggiungono in boost addirittura i 1800 MHz, mentre per la sua versione mobile siamo sui 4,6 teraflops di potenza, con frequenze che chiaramente si attestano al di sotto della soluzione desktop, intorno ai 1650 in boost. Vedremo soluzioni da 8 giga di memoria video, GDDR6 ovviamente, o da 4 giga GDDR6, mentre per la versione mobile, quindi la 5500M, probabilmente ci sarà solo in taglio da 4 giga di memoria. La GPU in questione, torno a parlare di 5500 classica, dovrebbe attestarsi circa un 20% più in su di una soluzione degli anni scorsi, come l'RX 480, che bene o male non si discostava troppo dalle prestazioni della sua sorella maggiore, la 580. Quindi avremo un boost prestazionale interessante, sommato a una diminuzione per quanto riguarda l'ambito dei consumi, perché si parla di un 27% in meno in quanto a consumi, rispetto sempre all'RX 580. E qui arrivo chiaramente a parlare dei dati fornitici da AMD e di cui non abbiamo ancora avuto modo chiaramente di verificare appunto l'autenticità o comunque la veridicità per quanto riguarda le prestazioni. AMD dichiara che con questa 5500 in full HD si raggiungono e si superano anche tranquillamente i 60fps nei AAA. Sono stati fatti l'esempio di Ghost Recon Breakpoint o di Borderlands 3 ma ancora di Gears 5 e in tutti questi titoli dovremmo stare ampiamente al di sopra dei 60fps, quindi comunque una produzione di fps per quanto riguarda il full HD più che decente. La Casa Rossa ha fatto dei paragoni diretti appunto non solo con l'RX 480, ovvero due generazioni fa per quanto riguarda le schede dedicate al full HD, ma anche con la 1650, una delle soluzioni più nuove per quanto riguarda la line-up di schede video Nvidia. In questo caso il distacco dovrebbe raggiungere addirittura il 30% in certe condizioni, in certi casi, perché si passerebbe da un 60fps in breakpoint a un 41, quindi all'incirca un 30% di differenza, il che è davvero interessante, soprattutto se proviamo ad elaborare un'ipotesi di quello che sarà il prezzo di questa scheda, ma ci arriveremo. La nuova Radeon RX 5500 la vedremo da qui, a fine anno molto probabilmente, ovvero lungo l'arco del ultimo trimestre del 2019 e molto probabilmente non con un design reference, bensì ci saranno solo personalizzazioni, o perlomeno così abbiamo inteso durante la presentazione della scheda, quindi staremo a vedere anche questo nelle prossime settimane. Sappiate che chiaramente i produttori sono quelli classici, quindi da ASRock, ASUS, Gigabyte MSI, PowerColor, Sapphire, XFX, sono i più, diciamo, gettonati per quanto riguarda le personalizzazioni della 5500. E per concludere la descrizione, visto che li citavo poco fa, la scheda uscirà in bundle, almeno per il primo periodo, se acquisterete la 5500 riceverete un codice o per Ghost Recon Breakpoint o per Borderlands 3. Tirando brevemente delle considerazioni molto molto sintetiche su questa scheda, possiamo appunto pensare che AMD stia cercando di ricoprire, rinnovare la gamma di schede video dedicate appunto al Full HD, aggiungendo e pensionando in qualche modo le Polaris, dando sempre più spazio all'architettura, al DNA e tutto quello che ne consegue, perché con le 5700 che abbiamo visto nei mesi scorsi, sono state anche presentate tutta una serie di tecnologie, implementazioni appunto relative alle nuove schede come il FidelityFX, l'Antilag, tutta una serie di effetti e tecnologie allegate all'architettura hard DNA, quindi diciamo che potrebbe essere un modo come un altro per dare una vendata di aria fresca anche alla fascia Full HD. Rimane chiaramente da vedere il prezzo, ma se abbiamo visto una 5700 a testarsi negli ultimi mesi, almeno sul mercato, street price, tra i 320, 350 e i 400 e guardando più in giù alle soluzioni Polaris con quella più prestante, la 590 che si aggira intorno ai 220, 250 euro al massimo, potremmo ipotizzare una via di mezzo a livello di prezzo o molto simile alla 590 o di poco superiore. Quindi ovviamente non mi rimane che lasciare la palla a voi, commentate qua sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova scheda, se aspettavate anche voi, come tutti quanti noi, un'alternativa alla 2080 Ti per quanto riguarda la fascia altissima di prestazioni o se siete contenti anche così per un rinnovamento nella fascia Full HD. Lo spazio dei commenti è tutto vostro, non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo nei prossimi giorni in tanti altri video ancora, ciao!